Direttore, perdere con il Cesena ci può stare, perdere in questo modo però magari fa un po' male? No, la squadra ha fatto un'ottima partita, al primo tempo abbiamo sofferto un pochettino la loro forza, noi avevamo tante assenze, però i ragazzi poi hanno preso le misure e sinceramente il pareggio penso che sia il risultato più giusto, sarebbe stato il risultato più giusto, poi ci può stare a parte del gioco la dura legge del gol, questa volta ha premiato loro e non noi. Il Francavilla che si è visto oggi ti è piaciuto particolarmente, mi pare di capire? Assolutamente sì, i ragazzi hanno dato il massimo, hanno dato tutto, alla fine potevamo forse anche vincere la partita con un paio di occasioni, poi quell'infortunio che può capitare di uno dei giocatori più importanti che abbiamo però fa parte, ripeto, fa parte del gioco, faccio complimenti alla squadra, ha dato tutto e adesso continuiamo così perché possiamo ottenere il risultato pieno che vogliamo dall'inizio dell'anno. Una gara da recuperare, la zona playoff non è molto distante, l'obiettivo rimane quello? Sì, ma a prescindere la gara da recuperare perché questa è una guerra più di carte, di avvocati, quindi noi dobbiamo annullarla mentalmente quella gara, noi dobbiamo soltanto pensare di giocare e domenica andare a fare il risultato pieno a Agnone.